Nei prossimi mesi verranno inviati dall'Ufficio Tributi di Castanissetta più di 50.000 avvisi di pagamento. Si presume pertanto che all'inizio del 2024, dopo la ricezione degli avvisi, i migliaia saranno i cittadini che si recheranno all'Ufficio Comunale di Vialcide dei Gasperi per richiedere chiarimenti. In passato, le lunghe file lamentele e le proteste registrate all'Ufficio Tributi hanno messo in evidenza le criticità dello stesso ufficio nel gestire un'elevata mole di lavoro, dichiara il capogruppo della Lega, Oscar Aiello. Pertanto, conclude il consigliere Aiello, è opportuno agire in anticipo, potenziando nel più breve tempo possibile l'organico dell'Ufficio Tributi, valorizzando inoltre le professionalità che negli anni sono state acquisite sul campo. Al fine di prevenire ulteriori disagi che ricadono sui cittadini e sui dipendenti comunali, il consigliere Oscar Aiello ha presentato al sindaco un'interrogazione consigliare la venta d'oggetto, gestione ed organizzazione Ufficio Tributi, con la quale è stato chiesto all'amministrazione comunale cosa è stato fatto e cosa intende fare per aumentare il numero di dipendenti in servizio all'Ufficio Tributi, come si sta organizzando per gestire al meglio la mole di pubblico, che dopo l'invio di migliaia di avvisi si recherà presso l'Ufficio Tributi o contatterà lo stesso per avere chiarimenti. Per approfondire la questione sollevata dal consigliere Aiello, la redazione di Telefuturanissa ha richiesto dichiarazioni e dettagli al sindaco Roberto Gambino. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni da parte del primo cittadino di Caltanissetta.